Eccoci su Sicilia 24, nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca e partendo da Palermo. Tre giovani palermitani di 18, 22 e 25 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. La notte scorsa infatti un agente libero dal servizio ha notato in via Oreto a Palermo tre persone sospette. Il primo era intento ad armeggiare su una vettura in sostra mentre gli altri due facevano da palo. Contattata la centrale operativa sul posto sono giunti i poliziotti che hanno prontamente broccato i tre malviventi. I tre giovani sono stati quindi arrestati nella flagranza del reato e condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari. Ci spostiamo adesso nel Catanese per la precisione ad Adrano, continuiamo a parlare di cronaca. Un pitbull avrebbe aggredito un'intera famiglia composta da padre, madre e figlia piccola all'interno della villa comunale di Adrano. L'animale, che non aveva la museruola, sarebbe riuscito a liberarsi dal guinzaglio e si sarebbe scagliato sui presenti mordendo i due adulti. L'uomo ha riportato delle escoriazioni alla gamba, la donna invece è stata azzannata all'orecchio. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Cannizzaro di Catania. Fortunatamente la bambina non ha avuto conseguenze. Ora la proprietaria del pitbull rischia una denuncia per lesioni personali colpose. Cambiamo decisamente argomento a Catania. La Guardia di Finanza ha scoperto una truffa per oltre 28 milioni di euro sulle accise di prodotti energetici e sono state eseguite nove misure cautelari. Vediamo il servizio. Nove misure cautelari personali e reali sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Catania nei confronti di nove indagati a vario titolo anche per sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici. Nel provvedimento il GIP, su richiesta della procura distrettuale, contesta anche i reati di frode fiscale, indebita compensazione d'imposta con crediti inesistenti, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento IVA, falso in atto pubblico, intestazione fittizia di beni e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Per quattro degli indagati il GIP ha disposto la detenzione in carcere, per due gli arresti domiciliari e per tre l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ha anche disposto il sequestro di beni per 28,5 milioni di euro, ritenuto il danno complessivo subito dall'erario. Al centro delle indagini dell'operazione Petrolio Fantasma del nucleo PEF della Guardia di Finanza di Catania ci sono diverse imprese delle province Etnea di Palermo, Trapani e Siracusa operanti nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi. Personaggio indicato allo stato dell'inchiesta dalla Procura di Catania come figura centrale di un collaudato sistema di evasione delle accise e dell'IVA sarebbe Sergio Leonardo che, contesta l'accusa, con altri soggetti a vario titolo concorrenti avrebbe realizzato dal 2018 al 2021 condotte di frode fiscale commercializzando ingenti quantitativi di prodotti petroliferi destinati all'autotrazione senza versare le relative imposte. Per commettere i reati e la tesi della Procura di Catania sarebbero state utilizzate società cartiere e prodotti petroliferi destinati agli esportatori abituali ma in realtà immessi in consumo nel territorio nazionale, oltre a crediti di imposta inesistenti e uso commerciale per aziende di trasporto compiacenti di gasolio agricolo sottoposto a tassazione agevolata. Una prima tranche delle indagini del nucleo PEF della Guardia di Finanza di Catania era sfociata in otto arresti nel sequestro di oltre 80 mila litri di prodotti energetici di illecita provenienza e di sette autocisterne. E sempre a Catania un 27enne con problemi psichici e già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per aver aggredito e picchiato il compagno della madre. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un 27enne catanese già noto alle forze dell'ordine e sofferente di problemi psichici. Al riguardo gli operanti, in seguito a una chiamata pervenuta al 112, si sono prontamente recati presso un bar del quartiere Barriera dove hanno soccorso un uomo di 53 anni il quale, visibilmente scosso, presentava una vistosa ferita alla fronte e una contusione nasale. I militari hanno quindi immediatamente proceduto alla ricostruzione dei fatti. La vittima, poco prima, era stata violentemente assalita nella propria abitazione dal figlio della donna con cui convive, che in preda a un attacco psicotico, minacciandolo di morte, lo aveva percosso con calce e pugni per poi colpirlo al volto con la fibbia metallica di una cintura. L'aggredito, nonostante l'impeto del giovane, era tuttavia riuscito a fuggire di casa e a ripararsi nell'esercizio pubblico da dove aveva contattato i carabinieri. Il ragazzo, ancora in stato di forte agitazione, è stato bloccato nell'appartamento in compagnia della madre, la quale, presente nel corso dell'aggressione, ha confermato che il figlio, già da alcuni giorni, senza alcun motivo, aveva mostrato un comportamento ostile nei confronti del compagno. Il 27enne è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto e disposto alla misura degli arresti domiciliari, da espiare presso la casa di cura San Paolo di Sant'Agata di Militello. Ed ora parliamo di un grave incidente sul lavoro avvenuto a Messina. Un operaio edile messinese è rimasto gravemente ustionato mentre lavorava in un cantiere in un'abitazione a causa dell'esplosione della bombola del cannello a gas che stava utilizzando. Lo rende noto la Will messinese aggiungendo che dopo il ricovero nell'ospedale Papardo, l'uomo è stato intubato e trasferito al centro grandi ustionati di Catania. Si tratta di una pessima notizia, fortemente aggravata dal fatto che lo sfortunato lavoratore, comunicano dalla Will, non aveva alcun regolare contratto ed era assunto in nero e quindi totalmente sfruttato dalla sedicente azienda datrice di lavoro. Quanto avvenuto, dicono dalla Will, rappresenta un episodio di una gravità inaudita. Ed ora a Giardini Naxos, siamo sempre nel Messinese dove due minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per aver rubato la borsa di una donna che si trovava in spiaggia. I carabinieri di Taormina hanno denunciato in stato di libertà due minori della provincia di Catania per il reato di furto aggravato in concorso. I militari dell'arma erano stati allertati da una bagnante, la quale era stata derubata mentre si trovava in spiaggia. La vittima aveva notato due persone di giovane età allontanarsi velocemente, delle quali riusciva a fornire una sommaria descrizione ai carabinieri. Sulla base delle prime indicazioni, i militari sono riusciti a individuare uno dei presunti autori del furto. I successivi accertamenti investigativi, condotti con l'ausilio di personale della stazione Carabinieri di Giardini Naxos, anche attraverso la visione di alcune immagini di videosorveglianza, hanno consentito di identificare anche il secondo complice, un altro minore della vicina provincia di Catania. I due giovani, approfittando della distrazione della vittima, si erano impossessati di una borsa lasciata sulla spiaggia, contenente all'interno una modica somma di denaro contante e due telefoni cellulari. I due minori sono stati pertanto deferiti in stato di libertà alla procura dei minori di Messina per il reato di furto aggravato in concorso. Aveva avvertito un boss mafioso di Caltagirone di un imminente blitz, per questo motivo è stato arrestato un agente di polizia penitenziaria. Su delega della procura distrettuale, i carabinieri del ROS, coadiuvati in fase esecutiva da personale della polizia penitenziaria, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Catania, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, a carico di Angelo Allegra, assistente della polizia penitenziaria. Nel provvedimento si contesta all'agente di aver rivelato a esponenti di vertice della famiglia di Caltagirone, nello specifico a Gianfranco Larocca, l'imminente esecuzione dell'operazione Agora. I reati contestati sono favoreggiamento personale e rivelazione di segreti di ufficio, condotte aggravate dall'aver favorito la famiglia mafiosa Larocca. In particolare, lo scorso 14 giugno è stata intercettata una conversazione tra l'appartenente alla polizia penitenziaria e Larocca, nel corso della quale il primo avvertiva il suo interlocutore di avere appreso che quella sera, ovvero la successiva, ci sarebbe stata un'imponente operazione di polizia che avrebbe interessato una cinquantina di persone su tutto il territorio della provincia di Catania. L'informazione ha destato particolare preoccupazione in Larocca che, ritenendola attendibile, dal quel momento ha adottato tutta una serie di iniziative finalizzate a impedire il suo rintraccio, tant'è che il 16 giugno, al momento dell'esecuzione, non è stato trovato presso i luoghi abitualmente frequentati, ma è stato localizzato quattro giorni dopo. Nel corso dell'indagine sono stati documentati numerosi contatti e incontri tra l'assistente della polizia penitenziaria e Larocca ed è stato possibile constatare la piena disponibilità e asservimento del primo nei confronti del capo della famiglia Calatina, tanto da prestarsi in talune occasioni a fare da intermediario tra questi e terzi soggetti che Larocca voleva incontrare ma con i quali evitava accuratamente di avere contatti diretti. Appicca il fuoco a una palazzina mettendo a serio rischio l'incolumità degli inquilini, il fatto è avvenuto a Caltanissetta, un uomo è stato arrestato dalla polizia, aveva ancora in mano l'accendino utilizzato per innescare il rovo. I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto un cinquantenne nella flagranza di reato di incendio. A seguito di una chiamata pervenuta alla sala operativa della Questura, alcuni equipaggi della polizia di Stato sono intervenuti in una via del quartiere Santa Flavia a Caltanissetta, dove era stato segnalato un incendio in corso in una palazzina. I poliziotti giunti sul posto hanno notato un uomo inseguito da alcune persone che tentava di allontanarsi dal luogo dell'incendio. Il predetto, che è stato bloccato, identificato e sottoposto a perquisizione personale, aveva in mano un accendino funzionante. Ultimato lo spegnimento del rogo da parte di due squadre dei vigili del fuoco, all'interno dell'appartamento di proprietà dell'uomo fermato dai poliziotti, sono stati trovati dei materassi disposti a piramide per alimentare le fiamme. Nelle prime fasi dell'intervento i soccorritori, poliziotti e vigili del fuoco, per motivi di sicurezza hanno evacuato tutti gli abitanti dello stabile, rientrati nelle loro abitazioni dopo lo spegnimento dell'incendio. L'arrestato è stato condotto in questura e dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del pubblico ministero presso la procura della Repubblica del locale tribunale, è stato accompagnato presso la casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Siracusa controlli da parte dei carabinieri sull'isola di Ortigia sono scattate alcune sanzioni per degli esercizi commerciali, ma anche per i proprietari di Ape Calessino, quelli ovviamente che non sono in regola. I carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, unitamente a personale della Polizia Municipale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, hanno effettuato controlli all'interno di alcuni esercizi pubblici di Ortigia e servizi per contrastare il trasporto abusivo di turisti su Ape Calessino. L'attività ha portato a contestare violazioni amministrative per alcune migliaia di euro a due attività di ristorazione per l'occupazione del suolo pubblico e l'installazione di pubblicità senza autorizzazione. Un terzo locale invece, a seguito di un controllo fonometrico eseguito con l'ARPA, è stato sanzionato per 2.000 euro a causa del superamento dei valori limite delle sorgenti sonore. Nel corso del servizio sono state altresì controllate 16 Ape Calessino adibite al trasporto dei turisti e 74 persone. Tre mezzi sono stati sequestrati perché privi della licenza per il trasporto e in due casi condotti da soggetti non muniti del titolo abilitativo. Nell'ambito dell'operazione Espiria, che nei giorni scorsi, lo ricorderete, ha portato all'emissione di circa 70 provvedimenti, sono state sequestrate anche droga e armi. Vediamo il servizio. Nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria in cui sono stati eseguiti circa 70 provvedimenti emessi dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, i carabinieri del nucleo investigativo di Trapani e del ROS hanno rinvenuto una pistola semiautomatica illecitamente detenuta da uno dei soggetti tratti in arresto. L'uomo non era nella propria abitazione di Campobello di Mazzara. Gli investigatori dell'arma sono riusciti a rintracciarlo a Palermo, dove lo hanno bloccato mentre stava salendo sulla propria autovettura. Lo stesso aveva con sé due pacchi in cellophane contenenti complessivamente circa 50.000 euro in banconote di vario taglio. I militari hanno poi esteso la perquisizione all'abitazione estiva dell'uomo sita nella frazione di Tre Fontane, dove hanno rinvenuto anche la pistola automatica calibro 7,65 con 50 colpi del medesimo calibro di cui 4 nel caricatore, nonché altro materiale ritenuto utile all'indagine. L'arma da fuoco sequestrata verrà inviata al RIS di Messina per gli opportuni accertamenti tecnici. Nell'abitazione di un altro indagato sono stati invece rinvenuti circa 900 grammi di marijuana, a ulteriore riscontro della complessa attività d'indagine posta in essere dai carabinieri di Trapani sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Per il momento è tutto, non ci sono aggiornamenti, chiudiamo quindi questa edizione di Spazio Notizia, ma ci ritroviamo più tardi ovviamente su Sicilia 24. A dopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.